I Selvaggi della Papuasia di Emilio Salgari In sul finir del giugno del 1864, il brigantino olandese Harlem era partito da Porto Selangau nell'isola Mindanao, diretto per la Nuova Zelanda, con un carico di farina di segu, sostanza estremamente alimentare, e stratta dalla midolla di un albero assai diffuso in tutta la Malesia orientale. Era una bella nave, varata appena da un anno sui cantieri di Batavia, salda di costole, alta di bordo e di alberatura, come si conviene a navi destinate alla navigazione del Pacifico, ben attrezzata, meglio equipaggiata e della stazzatura di un 300 tonnellate. La montavano sedici uomini, ciurma un po' numerosa per un legno sì piccolo, ma indispensabile per quei viaggi sempre pericolosi. Sedici marinai nel più puro senso della parola, amanti del loro mestiere e della loro nave, il cui coraggio e le cui forze erano state più volte messe a dura prova. La comandavano il capitano Van Nordom e il secondo Asten, due galantuomini che contavano più viaggi che capelli, che avevano naufragato tre volte scampando miracolosamente alle onde e più di tutto al dente dei cannibali. Due tipi di lupi di mare che, al contrario degli altri, amavano gli agi della vita e che si davano bello spasso. L'un fatto per l'altro, entrambi sotto la quarantina, nativi di Enkwizen in Olanda, abbastanza ricchi per non aver mai fretta, erano i migliori comandanti che avessero a desiderarsi i marinai del brigantino. Mai gran fatiche, sempre in vista di terra finché era possibile per sbarcar qua e là a comperare viveri freschi, occupati a pescare o a banchettare, con la scusa di brindare all'Harlem o a Enkwizen. E che banchetti! I due comandanti, da veri amatori, avevano sempre un bel posticcino a bordo, occupato da una grossa botte e ben piena di vino di Spagna, un altro per un barilotto di rum che aveva sempre la pretesa di venire dalla Giamaica, una bella provvista di bottiglie del Reno e una dispensa riboccante di viveri, senza dimenticare galli e anitre che ruzzolavano da mane a sera e da sera a mattina sul ponte, sotto il rollio. Come si disse, l'Harlem aveva spiegato le vele in sul finir di giugno con buon vento del nord-nord-ovest, prendendo bravamente la via del sud. La navigazione, in sul principio, era stata alquanto burrascosa per i venti dell'ovest, che, toccando l'astro, erano venuti a contrariare un po' il cammino e a sollevare il non troppo pacifico oceano. Ma, poco a poco, tutto erasi calmato. E l'Harlem, a tutte vele spiegate, senza dimenticare coltellacci e scopamari, aveva preso una rapida andatura non minore di 4 o 5 nodi all'ora, lasciando agio all'equipaggio e ai due comandanti di spassarsela con frequenti libazioni, bei banchetti e serenate al chiaro di luna. Il 3 luglio aveva di già lasciato di buon tratto a poppa l'isola Megé, dopo essersi arrestato alcune ore a farvi la compera di una mezza dozzina di piccoli maiali, così abbondanti in quelle terre, e di aver fatto ampia provvista di frutta. Il 9, anche Salibado era stata cacciata a poppa, e il 13 l'Harlem era giunto a Mortei, l'isola pacifica del gruppo delle Malucche, situata all'estremità nord-ovest di Gilolo, dove erasi arrestato per rinnovare la dispensa di carne fresca e per completare il carico con certe stoviglie rosse che il capitano Van Norden contava spacciare con grosso guadagno alla Nuova Zelanda. La navigazione era stata ripresa sempre con buon tempo e mare sufficientemente tranquillo, tanto da non mandare a male le serenate, con rapidità bastevole per giungere sette giorni dopo sotto il centocinquantesimo meridiano, in vista della Papuasia, o Nuova Guinea, come la chiamò l'italiano Renzi nel 1826, una grande isola di 38.000 leghe geometriche di superficie, vale a dire di un'estensione uguale alla Francia, Belgio e Svizzera unite, malissimo conosciuta, e i cui indigeni hanno la mania di essere un po' troppo insocievoli, un po' troppo selvaggi, e dipendere a certi gusti che si direbbero d'antropofaghi. Il capitano che l'aveva visitata qua e là, approdando a Doré e alla Baia Gelving, contava di fare una gita alla prima calma in sulla costa, a dispetto dei Papuas, per provvedersi di quei bei frutti d'albero del pane che potevano supplire con vantaggio i biscotti di bordo e i pani di segù, e di fare ampia messe di noci di cocco dall'acqua fresca e zuccherata, senza dimenticare banani, durion e latanieri, frutta di cui andava ghiotto.